però ciao ragazzi come va allora a parte il fatto che sabato sono rimasta a casa perché non avevo voglia di andare a quarto poi nel pomeriggio nel pomeriggio cosa ho fatto non mi ricordo vabbè nel pomeriggio uguale siamo rimasti a casa al calduccio più che altro perché non è stata una giornata granché cioè dico una giornata abbastanza pesante però oltre a quella è andata bene e quindi niente solita routine per via del fatto che in queste giornate non faccio quasi nulla e in realtà stavo pensando unicamente a oggi perché oggi siamo andati in discoteca e quindi pensavo a un modo per andare con Alessio e alla fine l'ho trovato lo sentirete nell'altro blog allora a parte il fatto che sono stata tutto il giorno a casa nulla di che è tutto normale anzi in realtà forse sono stata dal nonno sì sono stata dal nonno perché volevo andare un po' da lui anzi in realtà ho più che altro ho giocato con questi braccialetti che mi c'è voluto una vita a farmeli allora per oggi è tutto lasciate like e iscrivetevi al canale se volete unirvi all'AsaFamily e noi ci vediamo domani con un nuovissimo blog ciao